Domenico, come giuri questa vittoria? È una vittoria molto importante per la classifica. Dopo tanto di giuro anche? Come? Dopo tanto di giuro anche la vittoria. È stata una grandissima vittoria sul campo molto difficile. È una partita molto dura sotto tutti i punti di vista. Però noi abbiamo dimostrato grande carattere, soffrendo da grande squadra, da una squadra che si vuole salvare senza play-off. È stato grande i tre punti, sono punti pesantissimi per la classifica, per tutto, per il morale, per tutto. Noi giocheremo le ultime cinque partite, come abbiamo giocato oggi, le ultime quattro partite, scusate, come abbiamo giocato oggi, cercando sempre di fare il punteggio a piedi. Alla fine io credo che se giocheremo così possiamo rilasci, possiamo fare qualcosa di importante.